fallo partire giovane ok e io ma cos'è con la ma sono due le cose che roba è quella ma cos'è sto spropiatto vedi che sapeva già non c'era qualcuno che lo aspettava tranquilli la ma sono c'era si vedeva si è spropiativo sotto mancia mancia si è fatto male non avrebbe pensato a mandarlo io sono